Consigliere regionale, siamo qua per ribadire ancora una volta questo no categorico all'ampliamento della discarica perché non possiamo consentire nel 2018 che l'Umbria utilizzi ancora come unico metodo di smaltimento dei rifiuti la discarica di Orvieto. Noi dovevamo nel 2015, all'epoca ci fu una dichiarazione solenne della regione dell'Umbria con l'assessore regionale dell'epoca, dire basta a qualsiasi ulteriore ampliamento della discarica. A distanza di pochi anni invece siamo qui a discutere un ulteriore ampliamento. Io penso che questo non sia tollerabile quando diciamo che ci deve essere corrispondenza tra le promesse che si fanno in campagna elettorale e i fatti pensiamo a questa vicenda e ci indigniamo. Quindi siamo qua perché noi necessariamente dobbiamo impostare lo smaltimento rifiuti nella nostra regione come lo si imposta in tutti i paesi occidentali e in tutti i paesi più sviluppati del mondo a cominciare dal nord Europa e cioè riciclando e cioè costruendo impianti che ci possono consentire di portare in discarica solo una parte assolutamente residuale del rifiuto utilizzando anche a scopi di business, quindi anche facendoci soldi, invece i rifiuti che oggi vanno in discarica diventano un elemento anche di infinamento. La cosa è molto semplice, la regione aveva dichiarato nel 2016 che non avrebbe mai fatto una cosa contro il territorio di Orvieto, il consiglio comunale ringraziando il cielo e anche i consiglieri comunali si è espresso negativamente e quindi io penso che siamo qui per dire che la regione deve semplicemente prendere atto che Orvieto non ce la fa più e che non si possono fare ulteriori ampiamente in violazione delle promesse elettorali del l'ultima campagna a entrare per le regionali.